Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. Come già detto nelle previsioni precedenti, abbiamo da una parte l'anticiclone delle azzorre, dall'altra le perturbazioni atlantiche che cercano di inserirsi all'interno del Mediterraneo. Il risultato in questi primi giorni della settimana saranno perturbazioni blande che attraverseranno la nostra penisola, apportando però solo deboli rovesci sulle pre-alpi e nelle zone interne appenniniche del centro Italia. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 20 marzo. Cieli sereni al primo mattino con un aumento costante della nuovosità durante la giornata a partire dai settori più occidentali della Basilicata e della Puglia settentrionale. Nuovosità alta e stratificata più intensa solamente nelle zone interne dell'Appennino Lucano, con qualche forza e debole rovescio sul massiccio del Pollino. Grandi sprazzi di sereno sulla Puglia centro-medio-rionale, soprattutto sulle coste. Per quanto riguarda le temperature, come possiamo vedere dalla grafica, saranno stazionare sia nei valori massimi che in quelli minimi. Venti deboli e variabili con rinforzi sul Salento dai quadranti meridionali. Per quanto riguarda i mari, da poco mossi a calmi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Marzo per questo scatto della campagna leccese in questi splendidi giorni primaverili. Sembra quasi di essere catapultati nella savana africana. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MetiOne e Teleappola, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.